Dallo stadio Domenico Francioni di Latina, penultimo test amichevole per la Roma di Luciano Spalletti che affronta il Latina. Chiama lo schema Totti, movimento di Perotti, incontro Totti va su Pinsoglio e gol! Il gol di Fazio che sblocca il risultato! Brosco di testa, Brusca Gin al centrocampo, Mariga anticipato da Nainggolan che dà spazio al break della Roma. Nainggolan, Nainggolan, conclusione Pinsoglio in due tempi. Nainggolan ruba il pallone, break della Roma Totti, sale Perotti, lo aspetta Francesco, poi ancora Perotti, Pinsoglio! Ancora Perotti, palla limite dell'area, c'è Totti! La Roma che mantiene la continuità in area di rigore, attenzione perché è vicinissimo al colpo di testa Vermelen. Ancora in area di rigore, in mezzo per Vermelen, palla fuori! Tutto è pronto, calcio di punizione. Batte Scaglia ed Alisson va a prendere senza problemi. Salah in area di rigore, Salah, Salah, palla in mezzo per Kevin Strootman che può andare a concludere Pinsoglio in due tempi. È l'occasione più ghiotti, contropiede in Latina. Scaglia prova a cambiare gioco dall'altra parte, regolanti, bella la giocata, pallone fuori! De Rossi ha recuperato il pallone, Iturbe può partire. Bella palla per Salah, che può andare poi a cambiare gioco per il Sharawi. Si aprono spazi adesso il Sharawi, la sua giocata, il Sharawi se la mette sul destro! Pinsoglio ancora! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!